Il 13 dicembre del 2012 Beatrice Ballerini, giovane impiegata di banca, venne uccisa nella sua casa di Pieve Agnevole. Era stato l'ennesimo tragico episodio di femminicidio. Beatrice fu l'ultima vittima del 2012 di una strage di donne che sembra non avere fine. Al Tribunale di Pistoia, davanti al giudice per le udienze preliminari, ha avuto inizio il processo, soccorrito abbreviato, per l'ex marito della donna Massimo Parlanti di Montecatini. Esattamente il giorno seguente al tentato omicidio di Marta Bregu, la 28enne, che è stata gettata giù dal tetto dal marito dopo una violenta lite per motivi passionali. Al processo era presente tutta la famiglia di Beatrice, i genitori e il fratello Lorenzo Ballerini, che non si è mai rassegnato alla morte della sorella, che ha creato anche un blog in sua memoria e sul tema del femminicidio. L'udienza è stata soprattutto tecnica per impostare il processo e acquisire le prove. Nella notte del 13 dicembre 2012, Beatrice Ballerini e l'ex marito Massimo Parlanti si erano dati appuntamento nella casa di Pieve Agnevole. Da una prima ricostruzione sembra che il Parlanti avrebbe chiesto alla ex moglie un incontro per riprendere dalla casa delle cose di sua proprietà. L'incontro però era degenerato in una discussione e poi in una violenta aggressione dell'uomo a Beatrice, che dopo essere stata picchiata fu strangolata. La donna fu ritrovata nella casa priva di vita. Le indagini dei carabinieri dirette dal sostituto procuratore Claudio Currelli si fecero sempre più stringenti e alla fine Parlanti crollò e confessò l'omicidio. Parlanti è difeso dagli avvocati Enrico Zurdi e Luca Bisori del foro di Firenze. La linea difensiva è quella di provare che nell'atto del Parlanti non c'era premeditazione, ma che sarebbe stato frutto di un improvviso raptus. Il processo riprenderà il 7 novembre.